ok blaster della fish quasi apre un mondo un po diverso mezza esca rigida mezza esca silicone testa rigida con uno scasso per poter modificare il piombo inserire o levare piombi per differenziare il nuoto amo ancoretta che si stacca in caso di mangiata per non rovinare l'esca e rimetterla a posto con un nuoto da gomma un consiglio si può staccare l'ancora levarla da qua inserirla sull'anello superiore qua si blocca tutto con un classico moschettone per non far uscire i piombi si smonta si svita l'anello si riavvita sopra spostando ancora e supporto della parte superiore per renderlo un attimino più antincaglio grazie a tutti